C'è un circuito magnetico? Le andiamo ad applicare in un caso semplice in cui ho semplicemente un toro di materiale magnetico con un avvolgimento conduttivo, quindi per esempio di rame, sopra e ce lo andiamo a studiare. Poi inseriamo una difficoltà, inseriamo un traferro all'interno di questo e vediamo come si studiano le equazioni. Poi vi faccio vedere come è fatto un datasheet di un materiale, così capiamo effettivamente quando io dico voglio costruire una macchina, voglio costruire un trasformatore, come e per quale ragioni io debba scegliere un determinato ferro, un determinato lamerima e non un altro, quindi andiamo a vedere un po' insieme. Poi magari vi do il sito, quando voi avete il computer lo potete voler andare a vedere, magari da un nuovo proietto. E quindi ci andiamo a prendere effettivamente da queste curve i punti di funzionamento, le caratteristiche di H e quindi ci mettiamo un po' in una situazione che è più reale. Allora, prima di tutto, sicuramente o molto probabilmente, con il professore Attenerese avete definito quella che è la riluttanza. Avete detto che n per i è uguale al flusso per la riluttanza, o l'avete ricavato. N che cos'è? N è il numero di spire, i è la corrente che circola all'interno di queste spire, è uguale al flusso per la riluttanza. La riluttanza tipicamente si scrive con una r con una doppia linea e avete definito il flusso come l'integrale doppio su una generica superficie sigma di B scala n, scala n, scala n, scala n, quindi l'altro determinato avvolgimento fatto di n spire, n per i è uguale al flusso che genero, che posso insomma ricavare come l'integrale doppio di B scala n, scala n, scala n, scala n, scala n, moltiplicato per questo termine che è la riluttanza. Allora, capiamo di che cosa sto parlando, se io prendo un toro, un toro intanto è una ciambella, questo è un toro, una ciambella di materiale ferromagnetico, intorno al quale vado ad inserire un avvolgimento. Ok. Immagino di avere questo toro di materiale ferromagnetico con un'anima. immagino di buttare una determinata corrente I, e vengo adesso, e di avere un numero di spire, pari ad n, ok? L'ipotesi che andiamo a fare è che la corrente, dunque che al mio sistema, il mio sistema sia corrente impessa, quindi finisco per la corrente, e che questa corrente non è talmente esattamente. costante. Allora, sappiamo che n per I è uguale all'integrale di H, scala t, scala n, giusto? sul gamma, dove gamma, per esempio, è questo. Facciamo una cosa. Allora, in generale, un materiale ferromagnetico è la curva di H, più un materiale ferromagnetico, immaginando di partire dalla condizione 0,0, quindi materiale di uno scarico, vado ad inserire un determinato forzamento H, che è strettamente legato alla corrente, e che cosa succede? Che qui ho una risposta in termini di B, quindi io vado ad inserire una corrente all'interno di questo conduttore. Quindi sto generando H, come risposta del mio sistema ottengo un'induzione, B, ok? Come sapete, come penso che sappiate, il legame BH di un materiale ferromagnetico non è lineare. Allora, se io parto da 0,0 e inizio a magnetizzare il materiale, percorro questa curva, che è una curva di prima magnetizzazione. Quindi parto da 0,0, fornisco una corrente all'interno di questo H, che per me è il forzamento, e ottengo una termina da B, a percorro in questa direzione. Che cosa noto? Che nel momento in cui io vado a diminuire questa corrente, mi riporto questa corrente a 0, ritorno in 0,0, quindi ritorno in T, ovviamente non torno in 0, ma vado qui. Poi c'è lì, la... Poi se mi spaventano è difficile, ma non va, vai, vai. Va bene. beh ovviamente dovrebbe essere simpatico rispetto all'ottistica quindi quando io sono arrivato qui diminuisco H inizio a percorrere questa curva arrivo qui rifornisco H e risalgo ok? quindi prima cosa importante io dato in do insomma vado a variare quello che è un determinato forzamento che è la corrente quindi sto andando a variare direttamente quello che è H e ottengo un determinato B e quindi ottengo una determinata caratteristica di questo tipo qual è il problema di questa caratteristica? prima di tutto non è una caratteristica facile da studiare perché ovviamente non è una funzione lineare prima di tutto in più è anche definita come una funzione polidroma cioè vale a dire se io prendo un singolo valore di B se io prendo un singolo valore di B quello che ottengo non è un unico valore di H posso stare qui o posso stare qui dipende da come ci sono arrivato a quel punto ok? quindi se sto in questa fase o se sto in questa fase quindi quello che si fa per semplificarci un po' la vita è scomporre il ciclo di stelesi in due diciamo in due funzioni sappiamo senza dubbio che l'area del ciclo di stelesi rappresenta quelle che sono le perdite del materiale per unità di volume perdite del materiale per unità di volume che sono legate in prima battuta possiamo dire a due entità o meglio abbiamo delle perdite per correnti parassite e delle perdite per stelesi le perdite per correnti parassite sono delle perdite che si generano legate al fatto che il materiale per unità sottoposto nel determinato campo variabile del tempo genererà all'interno dello stesso materiale delle piccole parrenti parassite in modo tale da opporsi alla fase delle perdite e poi abbiamo le perdite legate all'isteresi perché io devo percorrere questo ciclo ovviamente tante più volte lo percorro tante più saranno le perdite questo è governato dalla forse l'avete visto sicuramente dalla legge di Stevens e si dice che le perdite per unità di volume ma non è se sono anche definiti le P saranno uguali ad una quantità di perdite per stelesi più una per correnti parassite questa che cosa è uguale? questo è dato ad A per F alla Bmax per Bmax usato nell'alfa più B per F al quadrato per Bmax al quadrato quindi ho A per alfa compreso tra 1 e 6 e 2 quindi questo sicuro non l'avete visto però ora vi faccio capire perché ci serve quindi le perdite ovviamente date a due contributi o non le misteri sono per correnti parassite definite in questo modo un termine legato alla frequenza un termine elevato alla frequenza al quadrato quindi in generale prima di tutto tante più volte percorro questo ciclo quindi legato alla frequenza tanto maggiori saranno le perdite che ho e poi dipende senza dubbio anche dal campo l'induzione che ho no maggiore è il P massimo a cui insomma è sottoposto il materiale ferromagnetico maggiore è il P massimo allora quello che vi dico è partiamo da questo e scomponiamocelo in due circuiti o meglio in due caratteristiche più semplici nel senso che prendo questo vado a valutare qual è l'area del ciclo di stereosi immaginiamo di vedere questo come la somma meglio di scomporlo in due grafici in uno prendo l'area solo se lo vado a rappresentare il piano pH se mi rappresento solo l'area ora è una specie di illisse ok quindi questo mi rappresenta l'area del ciclo di stereosi e che cosa faccio? prendo questo punto questo punto punto medio questo punto questo punto punto medio se la caratteristica fosse fatta bene questa è molto vicina a quella che è la linea di prima magnetizzazione la caratteristica di prima magnetizzazione magari se potete non lo devono dire ok quindi se io prendo questa da un lato sono a rappresentare semplicemente quella che è l'area del ciclo dall'altro lato invece vado a rappresentare questa che è la linea o meglio definita anche caratteristica di media magnetizzazione o meglio ancora caratteristica media del ciclo ottengo una linea ok quindi quello che ho fatto è per semplificarmi la mente ora capiamo perché mi sto semplificando la vita parto dallo ciclo di stereosi in uno mi porto in conto solo quella che è l'area del ciclo nell'altro vado a rappresentare quella che è la curva di media magnetizzazione a rigore questa si definisce linea media del ciclo che come vedremo tra poco può essere diciamo approssimata con la caratteristica di media magnetizzazione ok tutto questo ma che mi serve mi serve perché quando io vado a studiare un circuito magnetico in generale quello che tipicamente faccio è utilizzare questa caratteristica qui per capire qual è il punto di funzionamento anziché entrare in questo e capire quali sono le perdite io utilizzo semplicemente quelle che sono le formule di stevens quindi anziché utilizzare tutto questo io vado a utilizzare solo questo più l'equazione di stevens chiaro? quindi il vantaggio vale che qui è facile nel senso che io mi vado a studiare il mio circuito no? ho una determinata corrente però blablabla blablabla arrivo a ottenere quello che è il mio b voglio capire all'interno del ferro dato un determinato scusatemi h perché h è il forzamento no? dato un determinato h io conosco la corrente quindi mi ottengo h voglio capire qual è la b del materiale quindi entro qui dentro e mi riesco con i valori di b poi il contrario ok? quindi da qui capisco quello che è il punto di funzionamento e da lì mi vado a valutare quelle che sono le perdite chiaro? dato che stiamo parlando ovviamente di ferro sappiamo che il legame ph è un legame che non è lineare meglio che abbiamo un determinato b che è funzione di h oppure posso vedere b come mu 0 per h più la validizzazione oppure ancora posso vedere b come mu per h oppure ancora come mu con 0 per r per h no? facciamo una cosa più se io prendo questa se prendo la seconda equazione b è uguale a mu con 0 per h più la prima validizzazione questo è che cosa è uguale se mettiamo evidenza mu con 0 questo sarà uguale ad h più m diviso mu con 0 che è uguale se mettiamo evidenza anche h a mu con 0 che è uguale a mu con 0 h che è 1 più m diviso mu con 0 per h questo termine qui che cos'è? è proprio questo giusto? questo è uguale a mu con 0 per mu con f per a quindi questo mu con f è proprio questo allora se ci siamo iniziamo a vedere il progetto posso accelare? mi mancava qualche pezzo? allora aspetta mu con 0 h più m qua metto in evidenza mu con 0 quindi mu con 0 h più 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 m diviso mu con 0 se metto in evidenza anche h è 1 più m ok quindi questo è uguale proprio a mu con 0 per mu con r per h noi mi stiamo bene ok altre equazioni che abbiamo bisogno dunque i circuiti magnetici se posso non c'è guarda allora sappiamo dalle equazioni di Maxwell che prima di tutto il rotone di H rotone di H è uguale a J e sappiamo che il rotone di E è uguale almeno alla derivata di B rispetto al tempo giusto? sì allora nell'ipotesi in cui siamo in magnetostatica o magnetolasistatica quindi vale a dire in cui l'induzione varia lentamente posso dire che cosa? posso dire che questo termine è uguale a 0 e posso andarmi a scrivere queste due equazioni in termini integrali giusto? dalla prima che cosa ottengo? ottengo quello che abbiamo scritto prima non lo so perché ho cancellato vabbè che H scala a T scala a L uguale a meno 3 alla seconda che cosa ottengo? ottengo dato che la derivata deve essere uguale a 0 ottengo che l'integrale è doppio quindi non deve variare di B scala a Ren scala a S deve essere uguale a una costata o una costata quindi abbiamo bisogno di 1 2 e tutto quello che ci siamo detti nel senso il legame che c'è tra B e H qui uguale a 0 ma molto spesso abbiamo bisogno anche di B0 uguale a 0 se ho un traferro se ho dell'aria all'interno quindi quello che vado a fare in generale è le macchine elettriche le studiamo con l'utilizzo fondamentalmente di queste due equazioni ok allora andiamo ad utilizzare queste equazioni per questo c punto che c'è allora se vado ad applicare la prima H scala a T del uguale a N per E quindi io prendo questa linea e mi vado a fare l'integrale ok ho che in tutti i punti H facciamo prima di tutto l'ipotesi però perché se no questo l'indigo non è vero facciamo l'ipotesi che la sezione di questo toro sia sufficientemente piccola cioè che cosa voglio dire che se io confronto il raggio interno con il raggio esterno questa quantità è maggiore rispetto a questa questo mi serve per dire che questo è il tubo di flusso e che il flusso sia costante in tutti i punti chiaro? se questo è vero in più H è sempre tangente alla mia curva gamma che è questa trattugiata magari l'intera stagione quindi H scala Tdl se questa curva gamma ha una lunghezza che chiamo lunghezza media questo integrale banalmente diventa H H di che cosa? del ferro o in generale di questa aneoma ferromagnetica per la lunghezza media e lo guardate per lì giusto? molto semplicemente che cosa ho detto? sono partito da questa H e T prima di tutto sono paralleli quindi il vettore H è sempre nella direzione tangente a questa linea gamma scala Dl quindi mi serve la lunghezza di questa è uguale a che cosa? Dl un numero di spiega tornato chiaro? seconda equazione B scala N Tdl è costante che cosa significa? se io ipotizzo che come abbiamo già ipotizzato magari io la scrivo l'ipotesi quindi l'ipotesi è che la sezione del toro sia finora molto finora rispetto al raggio quindi per queste ipotesi abbiamo detto se questo è veramente piccolo posso ipotizzare che il flusso sia costante in tutti i punti quindi dire che il flusso è costante in tutti i punti l'ho cancellata l'integrale l'integrale doppio abbiamo visto prima di B scalare N scalare S è uguale al flusso significa dire che anche B deve essere costante quindi questo significa dire che B moltiplicato che cosa? N scalare S quindi ho bisogno di una superficie quindi B per la sezione del ferro è una costante ok ultime equazioni che abbiamo bisogno è che B lo guardiamo per A bene a questo punto io quello che voglio fare è arrivare a scrivere la riluttanza per questo circuito cioè non stiamo facendo niente di chissà che cosa se non applicare questa equazione a questo circuito per arrivare a quella là sopra ok quindi per arrivare a ricavarcelo in riluttanza quindi quello che faccio ora è vado a prendere la terza equazione e vado a ricavare quella che è la H è uguale a B F diviso mu aprendo appunto qua dentro e ottengo che B F fratto mu per L con M è uguale a n per i lì sopra c'è il flusso quindi mi devo scrivere anzi che andarmi a scrivere B mi devo scrivere il flusso ma sappiamo che B è uguale al flusso diviso la sezione quindi ottengo che il flusso diviso mu diciamo il flusso per L con M diviso mu per la sezione è uguale a n per i confrattando questa con questa ma è l'econ M non fa parte dell'equazione ottengo che questa è l'oggetto di cui abbiamo parlato questa è la l'unitanza ok l'unitanza che è un oggetto che aumenta all'aumentare della luminizza e diminuisce all'aumentare sia della sezione sia di nulla a questo punto andiamoci a complicare un po' il circuito nel senso che abbiamo ipotizzato che ci sia tutto ferro che sia omogeneo tutto eccetera eccetera a questo punto cancelliamoci un pezzettino immaginiamoci che qui non ci sia più solo ferro ma che ci sia aria posso cancellare qua? mi siano perché se no non lo so non lo so non lo so Quindi io non lo faccio per comodità, ma rifatemi lo spesso d'oro però con un traferro. Quindi abbiamo visto il primo caso, toro semplice, pieno, e ci siamo studiati l'equazione. Siamo arrivati all'equazione dove ho plus, minuttante, parrente e numero di appoggiunti. Ora dobbiamo fare la stessa cosa, però in un circuito più reale, dove non ho solo forro, ma ho dell'aria. Ho un determinato traferro, più lunghezza, delta zero. E ora ci servono tutte e quattro le equazioni. La prima e la seconda, vabbè, lo sapevamo. La terza perché ho il ferro, la quarta perché ho l'aria. Questa qui mi serve per capire più in mezzo che cosa succede. In più all'ipotesi che abbiamo fatto prima, che la sezione del torno sia sufficientemente più piccola rispetto al raggio, vado a dire che voglio anche che questo traferro sia sufficientemente piccolo. Perché se questo traferro è sufficientemente piccolo, non mi va ad alterare quella che è la proprietà che il flusso e quindi b rimangano costanti in tutto il torno. Perché altrimenti sono uguale. Quindi quello che dico è che il delta zero Quindi partiamo dalle nostre belle equazioni e ce le dobbiamo riscrivere in questo caso. Allora, qui che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto prima, h scala tdl uguale a n per i. L'equazione di Maxwell, quella è e quella rimane. Solo che, in questo caso qui, h, per l'ipotesi che abbiamo fatto, per l'ipotesi che abbiamo fatto, 1 e 2, h, diciamo che rimane costante. Rimanendo costante h, ed essendo h sempre tangente a quella che è la linea media, quindi la circonferenza, dovrò fare quello che ho fatto prima. Solo che se io prendo questa linea, quindi qui avrò h ferro, per la lunghezza ora del ferro, più un altro termine, legato a questo qui dentro. giusto, dove avrò un h con zero, per l con zero, per delta con zero. Non sto facendo nient'altro che partire da qua, mi sto percorrendo questa, quindi, anzi parto da qua, mi percorro questa, quindi la lunghezza del ferro, ho un determinato h, che è h all'erferro, e quindi da questa equazione, vedi, che avevo h ferro e l'erferro, arrivo qui, continuo, avrò un h zero, vabbè, h zero, che moltiplica delta zero, che è questa lunghezza, ok? Quindi, l'erferro più delta zero, è uguale alla l con m che ci siamo definiti prima, questo è uguale sempre a delta, ok? Seconda equazione, seconda equazione nella prima e nella seconda ecotesi che abbiamo fatto, quindi, che la sezione del torno sia sufficientemente più piccola del raggio, e che delta zero sia sufficientemente piccola da non alterarmi, b, che cosa ho? che b del ferro per s del ferro deve essere uguale a cosa? Prima abbiamo detto che era costante, qui ho due termini, ho che questo deve essere uguale a questo, quindi che b del ferro per s del ferro deve essere uguale a b con zero per s in zero, giusto? Bene, terza equazione, b uguale a v per h, b del ferro è uguale a mu del ferro per h del ferro, e b con zero è uguale a mu con zero per h del ferro. La mia idea è sempre quella di ritornare ad un oggetto in cui io facilmente riesco a ricavare quelle che sono le mie reluttanze, ok? Quindi, più o meno quello che abbiamo fatto prima, però è un sistema, diciamo, leggermente più complicato. Allora, prima di fare questo, io vorrei farvi vedere una cosa carina. Se io prendo questa qua, la vado a inserire qui dentro, nel senso che mi ricavo h con zero da questa, e la vado a inserire qui dentro, o h f e r l f e r più b con zero diviso q con zero, delta zero uguale a delta zero. se in questa vado a inserire anche la seconda equazione, e quindi mi ricavo b con zero da questa, ottengo h f e per l f e più b con zero sarà uguale a b f e per s f e, quindi, il viso delta con zero, il viso s con zero, per delta con zero è uguale a n per i. Quindi, preso questa, la sono andata a inserire qui dentro, ottengo questa, in questa vado a inserire questa, ottengo questa, chiaro? se mi metto in evidenza h con f e, quindi, ottengo qui, che cosa ho? Ho b f e in funzione di h f e, ok? Quindi, se mi esplicito b f e, mi ottengo b f e da qui, che cosa ho? Che b f e è uguale ad n per i per s con zero diviso s f e per delta con zero fino h f e per l f e per s con zero diviso s f e per s con zero che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto la mia b f e in funzione di h f. Chiaro, io non so due passaggi matematici, non ho fatto nient'altro che partendo da questa sono andato a sostituire l'h con zero ottenuto dal legame b con zero h con zero sono andato a sostituire qui dentro questo punto ottenuto questo dico ma b con zero quanto è uguale? b con zero me lo sono ricavato da qua sono andato a sostituire ottengo una funzione b f e in funzione di h f. Questa qui è carina perché questa qui la posso andare a rappresentare nel piano b h. Mi chiamato? l'ho creato? Mi chiamato? Mi chiamato? Mi chiamato? Un zero dell'equazione in alto a destra la sopra è persa bene alla spezzavazione va qua sotto questo? Sì un con zero quindi va sopra un con zero un con zero un con zero grazie se io prendo quelle che ho equazione la posso andare a rappresentare nel piano b h giusto? Qui c'è un meno quindi sarà una retta a tendenza negativa dov'è? Questo punto qui per h f uguale a zero ottengo n per i per s con zero per mu con zero iso sf del con zero e questo è questo punto ora questa qui si definisce retta di carico del mio sistema se io vado intersecare questa retta qui con la curva di prima magnetizzazione ottengo il mio punto di lavoro che cosa sto facendo? ho studiato il mio sistema indipendentemente dalla caratteristica b h del ferro perché io questa l'ho usata da qualche parte non l'ho usata da nessuna parte quindi mi sono ottenuto il legame tra b del ferro e h del ferro legato al mio sistema però questo punto di funzionamento sarà legato alla caratteristica del ferro questo è il legame b h del ferro con il legame del mio sistema quindi interseco quella che è la retta di carico con la caratteristica di prima magnetizzazione oppure i curvamenti del ciclo della stessa cosa ok? quindi quando vado a studiare un sistema di questo tipo siamo partiti da quello che era un tollo semplice noi abbiamo inserito l'area abbiamo visto che l'equazione si complica di poco perché ho solo un pezzettino d'aria e ho solo due materiali in gioco ho questa equazione che mi dice che b f e per s f e quindi che b per s deve rimanere costante che quindi sia nel ferro che nell'aria questo prodotto deve rimanere costante utilizzo le caratteristiche del materiale prendo questa la vado a tuttare qua dentro ottengo questa mi ricavo quello che è il legame b con 0 da questa equazione e arrivo fondamentalmente a questa questa è l'equazione che mi rappresenta il mio sistema che sono andato a graficare e ottenuto dall'intersezione di questa retta con la curva di mega magnetizzazione oppure di prima magnetizzazione che io si voglia ottenuto il punto di funzionamento domanda se io aumento la corrente se io prendo il mio sistema lascio tutto uguale vado ad aumentare solo la mia corrente prima di tutto tra le due che cosa che si muove? la caratteristica del ferro si muove? si muove la caratteristica del mio sistema ovviamente si muove la caratteristica del mio sistema la corrente sta con dentro ok? la caratteristica BH del ferro quella è quella di mano bene se io aumento la corrente cambia la forma di questo oggetto la corrente dove sta? lo sono qua sta nei suoi punti di intersezione quindi quello che succede è che se io aumento la corrente questa retta non fa nient'altro che traslarsi su se stessi siamo entro la corrente se la cassa ovviamente è disponibile bene quindi abbiamo capito il punto di funzionamento una retta di carica il punto di funzionamento a questo punto partendo da questa ritorniamo al sistema che abbiamo visto prima cioè voglio ritornare ad un'equazione tipo quella quindi n per i uguale a fi per la riluttanza dove ovviamente la riluttanza che ora avrò non sarà una singola riluttanza perché ho due materiali giusto? ok allora non so se vi conviene riscriverle o no vabbè fondamentalmente faccio pure la tavola ora invece parto sempre dalla prima e ci vado ad inserire questa e questa cioè parto da questa equazione e quello che faccio vado ad utilizzare in prima battuta semplicemente quelle che sono le caratteristiche del ferro la caratteristica dell'aria cioè il legame tra B e l'aria prendo la prima HFE HFE a che cosa è uguale? guarda BFE diviso 1 giusto? quindi questa è BFE diviso mu per LFE più H con 0 è uguale a B con 0 diviso mu con 0 BFE diviso mu più LFE più H con 0 quindi è B con 0 diviso mu con 0 per delta 0 diviso mu per U come ci siamo detti prima B che cosa è uguale? B è uguale al flusso diviso la sezione quindi ho che B è uguale al flusso per LFE diviso mu per essere più più flusso per delta 0 diviso mu con 0 diviso mu che è uguale a B uguale a B che è uguale a B che è uguale a B cosa sono questi determini? riluttanza del ferro riluttanza dell'aria qual'è costante? qual'è che non è costante? dove si viene riluttanza? riluttanza riluttanza del ferro riluttanza del ferro riluttanza del ferro riluttanza dunque come ho detto prima tra queste due quale riluttanza è costante? quale riluttanza è variabile? qui dentro c'è qualcosa che varia la grandezza del traferro la posso variare variando qualcosa che non sia geometrico è una lunghezza fisica una lunghezza fisica non la posso cambiare mu con 0 è una costante la superficie essendo la lunghezza la stessa la distanza è la stessa rimane la stessa la lunghezza del ferro la posso cambiare? no la superficie? no mu al variare del punto di funzionamento non è variabile perché non dipende da a quindi questa equazione che sembra essere banale ha in sé un termine che non è costante questa riluttanza cambia il variare del punto di funzionamento in quel punto ora se io abbiamo ipotizzato semplicemente di avere un toro spezzato con un traferro se io riprendo quel toro immagino che mezzo toro sia fatto di un materiale mezzo toro sia fatto di un altro materiale e poi ci sia il traferro sto semplicemente complicando il mio sistema ma fondamentalmente lo sappiamo risolvere giusto? perché qui che cosa avrò? non avrò solo due termini ma avrò anche il terzo termine quindi avrò questo del ferro questo dell'area più questo di un x materiale qui che cosa avrò? avrò quest'uguaglianza anche legata a quest'altro materiale di queste ne avrò quattro ne avrò tre scusatemi una del ferro una dell'area e uno di quest'altro materiale le combino e posso sempre arrivare ad un'equazione di questi materiali ci siamo? così come se capisci per esempio più avvolgimenti allora quello che ora facciamo è se volete fare pausa? volete fare pausa? vabbè intanto io monto il proiettore potete fare due minuti dopo quindi invito a noi se volete un po' Grazie.